Servono al più presto rinforzi, servono rinforzi subito, il tempo passa, bisogna muoversi velocemente. Questo è un po' il pensiero di noi di Rubrica Rosso Nera, ma parlando con voi sul nostro profilo Facebook e sulla nostra pagina Instagram, ci siamo resi conto che tutti, ormai i tifosi rossoneri, pensano che i rinforzi siano indispensabili per il Milan, per i prossimi mesi. Perché sarà una stagione dura? Perché nonostante siamo primi, le inseguitrici stanno andando molto forte e il Milan ha bisogno di rinforzare, di allungare la rosa. Ricordiamoci che da gennaio, poi, da metà gennaio, inizio febbraio, inizierà a farsi ancora più sul serio. Ripartirà l'Europa League, inizierà la Coppa Italia e bisogna andare avanti molto forti in campionato. Quindi servono rinforzi subito e sicuramente questo video non vuole criticare l'operato della dirigenza. Dirigenza che, possiamo dire, nelle ultime due sessioni ha lavorato con grande saggezza e quindi lasciamo che lavori con totale tranquillità. Secondo me, come capofondatore di redazione di rubrica rosso-nera, il Milan ha bisogno di un centrocampista nell'immediato. Non può essere con E, ma il Milan e la sua dirigenza avrà sicuramente altri nomi, ma va preso al più presto. Perché il Milan non avrà Krunic ancora per qualche settimana, Ben Nasser probabilmente rientra col Cagliari. E quindi il Milan deve cercare di rinforzare il centrocampo, magari con un giocatore più forte, più che più forte, magari più funzionale a Krunic. Krunic ha una mezzala adattata a mediano. E cercare di rinforzare al più presto anche la reparto offensivo. Reparto offensivo, un vice Ibra e, chiaramente, anche un difensore centrale. Possiamo dire la spina dorsale, serve una spina dorsale direttamente al mercato. Se sarà Simacan con E e un attaccante, sarebbe un buon mercato. Un mercato di giovani, molti chiedono giocatori di esperienza per portare avanti la carretta in questo momento di difficoltà. Noi, come redazione di rubrica rosso-nera, pensiamo che sia importante mantenere il giusto equilibrio, il giusto mix. Quindi, contro il Cagliari, molto probabilmente dovrebbero tornare Salome Kerr, dovrebbe tornare Ben Nasser, dovrebbe tornare Zlatan Ibremo. Ci sono già tre ritorni molto importanti. Sperando che si negativizzino velocemente anche Rebic e Krunic, il Milan potrebbe recuperare ben cinque giocatori. Però il mercato serve, è urgente intervenire perché il tempo passa e perché già i punti, le partite contro Torino in Coppa Italia e Torino in campionato sono partite importanti. Dove il Milan contro il Torino non deve perdere assolutamente punti, ma sono punti fondamentali per la Champions League. Il Milan arriverebbe a 40 punti prima della conclusione del girono di ritorno e quindi direi che è veramente un'ottima, un'ottima media. Quindi, servono rinforzi. Ieri, come ho detto nel video precedente, ci sono rimasto, nei giorni scorsi non ho fatto video perché ci sono rimasto male per la partita con la Juventus, ma ci rimango male anche a vedere se un giocatore con E che, Moncada, che ha segnalato anche Salem e Kerr tra gli altri, ha ribadito che è un giocatore importante, il Milan se lo faccia sfuggire per 2 milioni di euro in più. 2 milioni di euro in più. Infatti, sembrerebbe che il Borussia Montengladbach ha offerto 8 e il Milan lo valuta massimo 6 milioni. 2 milioni, avendo il sì del giocatore, possono essere colmati con bonus, bonus qualificazione Champions League, quindi bonus abbastanza semplici da inserire. Quindi, mi auguro, o il giocatore non convince pienamente, il Milan sta valutando anche altri profili, o non mi spiego come mai il Milan possa perdere un'opportunità, un giovane di belle speranze, solo per 2 milioni di euro. Discorso analogo per Simacan, molti giornalisti, molti colleghi youtuber davano per fata Simacan, alcuni hanno fatto video dicendo, annunciandolo già, noi abbiamo detto che bisogna stare attenti che il giocatore è vicino, perché, rivediamo ancora, è vicino al Milan, ma attenzione all'Ipsia. Non vorremmo che l'Ipsia, pareggiando l'offerta, possa convincere il giocatore a sposare il progetto tedesco. Serve più concretezza e serve più rapidità nell'acquistare i giocatori, perché Mr. Pioli lo merita, perché il Milan sta facendo un grandissimo campionato e quindi necessitiamo di rinforzi subito per mantenere la cima della classifica e per regalarci la prossima stagione, una stagione in Champions League. Poi, se vinceremo qualche trofeo, ancora, ancora meglio. Urgono i rinforzi, dirigenze, fondo io te lo sanno, ma serve accelerare, serve bruciare il tempo. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettermi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.